Ciao a tutti, io sono Anna Senatore, per chi non mi conosce sono una consulente del benessere, mi occupo appunto del benessere psicofisico ed anche energetico, ho uno studio a Ferrara e mi occupo di ripristinare soprattutto un equilibrio quando questo a causa dello stress o perché ci sono dei disagi nella sfera affettiva, emotiva, fisica o sessuale, io sono a 360 gradi una consulente che riesce a dare un supporto e mi occupo come dicevo di aiutare le persone attraverso anche percorsi evolutivi, i miei percorsi evolutivi sono molto introspettivi, non sono una psicologa e questo però mi aiuta attraverso le competenze che ho acquisito in quasi 15 anni di studio e di ricerca attraverso queste discipline olistiche di entrare in contatto con le persone sia da un punto di vista fisico attraverso il massaggio, sia da un punto di vista energetico attraverso le tecniche energetiche e in particolar modo il percorso del karma è uno dei percorsi che va per la maggiore perché aiuta proprio a guarire la parte animica e quindi le ferite dell'anima sono piuttosto frequenti, sono ferite che ci portiamo in età adulta e fanno costruire delle corazze e questo poi chiaramente va a interferire nelle relazioni non solo sociali ma anche nelle relazioni intime. Io oggi volevo fare questa questa registrazione perché è importante comprendere in che mondo viviamo. L'ambiente esterno condiziona molto il nostro benessere soprattutto se non abbiamo una centratura e non abbiamo la conoscenza di chi siamo e mi piace sempre informare le persone della componente spirituale quindi energetica e quindi io sostengo che siamo delle anime in cammino che vengono a fare un'esperienza sulla terra per imparare una lezione o per portare una lezione alle persone che si incontrano. C'è sempre un arricchimento reciproco e questo momento storico è un momento storico che chi era nell'ambiente olistico stava aspettando. Io stessa da alcuni anni promuovevo proprio questa nuova consapevolezza perché ci sarà una nuova era e questa era è basata sul fatto che possano essere smontati gli stereotipi gli schemi che hanno imprigionato gli uomini perché sono basati soprattutto sulla competizione sono basati soprattutto sul denaro sul potere mentre in realtà ci stiamo avvicinando verso un'era in cui è importante l'unione e questa unione creerà la condivisione il fatto di sentirsi realmente uniti come fratelli come sorelle aiuterà questo passaggio. Io sono sinceramente preoccupata proprio perché osservo che si sta cercando chiaramente dall'alto ci sono questi non solo i governatori che ci governano ma anche proprio si chiama il deep state che è praticamente un potere sommerso che va a far manovrare le nazioni di tutto il mondo e il coronavirus ci sta dando proprio questo grande esempio e di come si possono manovrare i burattini per ogni popolo e noi adesso non entro nella politica però sappiamo che abbiamo qualcuno che ci informa in modo anche piuttosto incoerente di cosa abbiamo bisogno. Il fatto che noi non sappiamo di cosa abbiamo bisogno è già il primo step che dobbiamo imparare a superare perché non possiamo pensare che ci debba essere qualcuno che ci dica in che modo comportarci soprattutto per quanto riguarda la salute perché in realtà sono stati fatti diversi errori per fortuna da parte di questi governatori che ci consentono di smascherarli. Io oggi volevo portare l'attenzione su alcuni di questi semplicemente perché possono essere un modo per instillare in voi quelle domande. È giusto che vi facciate delle domande ed è giusto che andate a cercare le risposte quindi io non vi darò risposte però incomincerò a darvi sicuramente qualche indizio. Poi se mi seguirete sicuramente di volta in volta potrete scoprire qualcosa in più. Perché dico questo? Perché in realtà la mia attività lavorativa non aveva a che fare con l'aspetto della politica però in realtà io per fare bene il mio lavoro bisogna che aiuti le persone come dicevo prima a comprendere che in che tipo di momento storico ci troviamo perché se non siamo informati su questo è come se ci possono manovrare, manipolare come meglio credono e invece bisogna far uscire fuori questa consapevolezza e sicuramente questo video potrà non essere di gradimento a tutti e questo canale in effetti è dedicato alle persone che vogliono e desiderano conoscere la mia visione olistica. La mia visione olistica non comprende soltanto l'amore cosmico, la sessualità, la disabilità, i massaggi ma comprende proprio anche come dicevo in apertura i percorsi evolutivi. Quindi sappiate che attraverso questi video io potrò aiutarvi a far acquisire quella consapevolezza che nasce proprio dal fatto che vi facciate qualche domanda. Allora mi sono presa qualche appunto e il primo appunto che riguarda i bambini, ho scritto anche alcuni articoli che vedevano appunto la mia perplessità su quanto stesse accadendo perché i bambini, tutti chiaramente, ma in modo particolare i bambini sono stati puniti e perché dico questo? Perché era evidente fin dalle prime settimane che i bambini da 0 a 10 anni non sono stati contagiati. Io adesso ho uno studio di questa ricerca che è stata fatta, se volete informarmi, si chiama il professor Crisanti e lo studio è stato effettuato solo su bambini da 0 a 10 anni e non c'è stato nessun caso, neanche asintomatico, quindi proprio zero assoluto. Questa informazione si sapeva già dal 21 al 29 di febbraio e hanno continuato imperterriti ad emanare dei decreti che obbligassero le persone a stare a casa, in modo particolare i bambini hanno chiuso le scuole e quindi la domanda è se davvero l'attenzione era alla protezione, se noi abbiamo su una popolazione i contagi soprattutto alle persone anziane, mi domando come mai si fa di tutta un'erba, un fascio dove anche i bambini sono stati costretti a subire isolamento con tutte le conseguenze che ne diriveranno purtroppo e quindi la domanda è, secondo voi come mai i parchi sono stati chiusi, come mai non si poteva uscire fuori? E' una domanda che potrebbe aiutarvi ad arrivare ad altre conclusioni. Un'altra attenzione è il fatto che ci sia stata questa circolare del Ministero della Salute negli ospedali a partire dai primi di febbraio che vietava i medici a fare autopsie e invitava a considerare i pazienti covid-19 come malati per polmonite interstiziale. La domanda che mi pongo è questa, se non si conoscevano gli effetti di questa malattia, come mai un Ministero della Salute invia questa circolare agli ospedali dove i medici si sono sentiti obbligati a dover rispettare questo divieto quando sappiamo benissimo che la medicina si basa sulla conoscenza e un'autopsia sicuramente aiuta a capire le cause della morte. Forse non lo sapete ma ve la do io questa informazione e poi magari cercatela e verificate se è vero, ci sono stati per fortuna due medici dissidenti di Milano che chiaramente sono anonimi che hanno invece fatto una cosa fantastica perché il giuramento di ipocrita, scusate di ipocrate, mi confondo perché poi c'è il professor Montanari che invece sostiene che questo è un giuramento ipocrita perché in realtà quello che è stato fatto è molto molto pericoloso perché come dicevo grazie a questi due medici milanesi è stato possibile capire che la causa non era la polmonite interstiziale ma era una tromboembolia polmonare causata però da un'eccessiva coagulazione del sangue quindi quando hanno capito che la causa della malattia era quella è ovvio che hanno usato dei farmaci differenti quindi è importante che sappiate che le persone che sono morte e sono morte tantissime nelle zone di Bergamo, Brescia, Milano, anche Cremona mi sembra, Mantova, sono morte soprattutto perché hanno usato cure sbagliate. Questo è un dato che deve farvi riflettere perché se non ci fossero stati quei due medici che hanno incominciato a farsi delle domande e hanno trasgredito la legge attenzione hanno trasgredito la legge per salvare le vite. Questa informazione probabilmente se voi guardate solo la televisione non vi arriverà mai ma è giusto che voi sappiate come stanno le cose quindi la domanda che vi faccio è come mai il ministero della sanità della salute abbia fatto questa questa circolare che cosa vi 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 fa pensare vi lascio le vostre conclusioni e un'ultima sì scusate che ho la batteria con poca carica e un'altra riflessione vediamo un po' è sul fatto che c'è il professor Bacco che ha fatto uno screening nel mese di febbraio e tra febbraio e marzo sulla popolazione per capire quanto fosse già immunizzata è importante fare screening e questa ricerca è stata finanziata da un privato uno statunitense quindi un cittadino americano che ha finanziato questa ricerca e questa ricerca ha offerto un dato fondamentale il fatto che il 34 per cento della popolazione si era già immunizzata quindi se questo virus era davvero così letale e la mortalità solitamente avviene perché non c'è l'immunizzazione e quindi le persone muoiono perché chiaramente il sistema immunitario non riesce a reagire e quindi a difendersi a questo punto la domanda è come mai non sono stati fatti questi screening e quindi lasciare libere le persone non agli arresti domiciliari perché se io sono immune vuol dire che non mi posso ammalare ancora quindi anche questa è un'altra domanda che vi vorrei appunto invitare a fare e direi che mi fermo qui per oggi e poi magari se avete piacere di seguirmi ci saranno sicuramente tante altre riflessioni se volete lasciare un commento e dirmi come la pensate voi e se avete fatto delle ricerche che confermino quanto io vi stia dicendo mi farebbe piacere condividerlo con voi intanto vi saluto con un bacio e un abbraccio cosmico ciao